A proposito di violenza sulle donne, oggi viene presentato il nuovo report della direzione centrale della Polizia Crominale insieme all'Università La Sapienza di Roma. Allora andiamo subito dalla nostra inviata Roberta Rizzo. Roberta, siamo da qui. Sì, Nicola, il terzo report di questo lavoro prodotto dalle forze di polizia, interforze, quindi anche i carabinieri. Dicevi il pregiudizio e la violenza contro le donne, questo è il titolo del rapporto presentato oggi in Campidoglio alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, capo della Polizia, anche Lamberto Giannini, il sindaco di Roma Gualtieri e poi la rettrice della Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, che ha collaborato alla stesura di questi dati che riportano dall'inizio dell'anno fino a ieri, 21 novembre, 104 donne uccise. Ma sono dati che poi paragonati all'anno precedente, soprattutto l'analisi che si fa sui primi nove mesi dell'anno del 2022 rispetto al 2021, sono in lieve decrescita i femminicidi. In pratica sono 82 anziché 90, 71 le donne uccise in ambito familiare, 42 dei quali per mano dell'ex partner o del partner. E' un dato molto interessante perché accostato invece poi alla crescita del lavoro di potenziamento per quanto riguarda la prevenzione, ci dice che sempre nei primi nove mesi dell'anno l'ammonimento, che è un sistema alternativo alla denuncia da parte di una eventuale vittima di stalking o maltrattamento, può chiedere al questore di convocare l'aggressore. E dunque l'ammonimento in questi primi nove mesi dell'anno è aumentato del 40%, un dato molto interessante appunto appaiato poi a questa lieve decrescita dei casi di femminicidio. Lamberto Giannini, capo della polizia, ha parlato, ha ricordato proprio invece gli efferati omicidi degli ultimi giorni avvenuti a Roma. Anche qui andranno eventualmente verificati se sono casi anche questi di femminicidio. Noi ci ritroviamo più tardi per un nuovo aggiornamento. A te.